Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta alle ore 18.30 circa di ieri giovedì 25 febbraio sulla strada statale 106 in località Passovecchio nel comune di Crotone per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, un'autovettura ed un camion. La vettura a seguito dell'impatto si è incendiata a bordo dei mezzi coinvolti nel sinistro, i soli conducenti che sono riusciti ad abbandonare gli automezzi autonomamente. Gli stessi feriti in modo lieve sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasferiti presso struttura ospedaliera San Giovanni di Dio per ulteriori controlli. L'intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione dell'incendio e dalla messa in sicurezza delle vetture del sito. Sul posto, polizia stradale per gli adempimenti di competenza, disagi per la viabilità. Questa mattina, intorno alle 8.40, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per un incidente stradale in località Papaniciaro sulla strada statale 106. Due le auto coinvolte. All'interno di una delle due autovetture, i vigili del fuoco hanno estratto una persona incastrata tra le lamiere. L'altra era già in autombulanza. Sul posto, anche i polizia, carabinieri 118 e Anas. Grazie. Grazie.